e ora dopo un lungo stop come riprendere l'attività fisica anche intensa e proteggere il cuore riprendere l'attività fisica dopo un'interruzione abbastanza lunga soprattutto per le persone che non hanno un allenamento di tipo professionale e anche le persone over 40 diciamo così è assolutamente doveroso poter fare alcuni piccoli accorgimenti dover prendere alcuni accorgimenti per evitare un trauma troppo eccessivo da parte del vostro cuore e del vostro corpo in senso generale prima di iniziare qualsiasi attività dopo un periodo dicevamo così lungo è necessario assolutamente svolgere una prima seduta di stretching ossia di fare almeno 10 15 20 minuti meglio di stretching per evitare che le vostre articolazioni non abituate o quantomeno hanno dimenticato il periodo di attività che facevate prima subiscono un trauma piuttosto consistente a causa del ripristino dell'attività fisica per cui la prima cosa che consiglio è senz'altro un periodo 15 20 minuti di stretching è fatto anche piuttosto bene dopodiché misurate anche la frequenza cardiaca a riposo perché ci servirà dopo per capire la qualità del nostro allenamento iniziare a fare un'attività fisica piuttosto moderata e nell'ambito di qualsiasi attività stiate facendo calcio calcetto pallavolo pallanuoto quello che volete sostanzialmente di recuperare di fare delle pause abbastanza frequenti ossia di fare uno sforzo pausa sforzo pausa e gli sforzi devono essere sempre moderati e non intensi almeno nelle prime sedute di ripristino dell'attività fisica prima di iniziare qualsiasi attività fisica in queste circostanze è bene che mezz'ora prima o 40 minuti prima assumiato un alimento qualcosa insomma che possa garantire un plateau della glicemia un plateau vuol dire che la glicemia non ha picchi non ci sono picchi insulinici e possa mantenersi costantemente nell'arco del tempo in cui fate lo sforzo fisico tipicamente io ad esempio uso del pane ai cereali all'avena senza nessun tipo di altro alimento aggiunto marmellato cosa del genere per carità questo per evitare dei picchi glicemici piuttosto alti quindi qualcosa che sia di integrale ripeto io uso l'avena un pane integrale 40 minuti prima mezzo panino assolutamente può essere di buon aiuto è meglio poi tra l'altro evitare di fare uno sforzo nei prime ore dopo i pasti vedo spesso delle persone in maniera assurda correre sotto il sole oppure fare un'attività fisica intensa due ore o un'ora e mezza un'ora o 40 minuti dopo aver pranzato sotto il sole è una cosa davvero di una follia ritengo utile questo termine perché sostanzialmente il corpo già deve sostenere uno stress fisico e in più deve combattere i danni del sole oppure difendersi dai danni del sole tipicamente adesso in estate spesso si vedono alle due alle due e mezza così persone che corrono sotto il sole coccente è un atteggiamento davvero inspiegabile e immotivabile iniziare quindi con un'attività moderata ripeto con pause tra uno sforzo e l'altro dopo aver fatto questo sforzo è importante valutare la frequenza cardiaca ossia ricordate di misurare la frequenza cardiaca riposo prima dello sforzo e di misurarla dopo lo sforzo e vedere quanto tempo passa tra la fine dello sforzo e il ripristino della frequenza cardiaca che avevate all'inizio cioè praticamente il grado di recupero detto molto semplicemente sostanzialmente più veloce è questo spazio cioè più veloce più in fretta tornate al ritmo di base cioè quello che avete preventivamente misurato e migliore sarà la vostra qualità del recupero chiaramente dopo aver fatto un stop a lungo per lungo termine il recupero sarà molto più lento ecco perché è importante misurare sia all'inizio ripeto la frequenza cardiaca di base sia alla fine dopo aver atteso e vedere quanto tempo torna nel range di normalità ciò detto subito dopo aver fatto questo tipo di attività fisica quindi dopo aver fatto questo tipo di sforzo dopo un lungo periodo di stop o comunque di riposo è importante che il giorno dopo questo sforzo stiate a riposo ossia la fase di recupero è impensabile poter fare immediatamente ripeto soprattutto per le persone over 40 cioè nella mia età anche over 50 e che sostanzialmente dopo aver fatto questo periodo di riposo sostanzialmente obbligato è necessario dopo lo sforzo dicevo di fare un periodo di recupero che quanto meno almeno 24 ore è chiaro ci sono ci sarà la tentazione di riprendere immediatamente a giorni costanti ma vi ricordo che dopo una certa giovane età è importante dare al nostro fisico il tempo di recuperare il tempo di recuperare è dopo uno sforzo del genere e quanto meno 24 ore e reidratazione dicevo importante una premessa che non ho fatto prima all'inizio sarebbe opportuno fare un elettrocardiogramma di base ancora meglio sotto sforzo prima di riprendere l'attività fisica per quanto riguarda il cuore nessun problema quindi sotto ogni aspetto dal punto di vista alimentare ho dato qualche piccola indicazione davvero molto piccola per quanto riguarda qualche accorgimento di frequenza cardiaca vi ricordo come ho detto prima la frequenza basale a riposo e controllare dopo lo sforzo quando ritorna normale per calcolare il periodo il tempo di recupero e null'altro il cuore può sopportare benissimo qualsiasi sforzo per cui non preoccupatevi ricordatevi solo che correre fare ranni o fare qualsiasi sport senza dubbio con consapevolezza evitando ripeto quei picchi quegli eccessivi quegli effetti dannosi che possono generare anche se non lo vediamo un danno non solo al corpo ma anche al nostro cuore